oltre a video ci sono altri verbi latini che nella loro forma passiva presentano la costruzione personale con il nominativo e l'infinito questi verbi rientrano in tre categorie i verbi di dire o verba dicendi come dicor essere detto feror e trador essere raccontato e anche audior con il significato di essere sentito dire la seconda categoria è quella dei verbi di stima o verba senziendi come ducor essere creduto essere considerato iudicor putor habeor existimor nel senso di essere ritenuto la terza è quella dei verbi che significano comandare vietare o verba iubendi come iubeor io sono comandato proibeor vetor io sono proibito partiamo dai verbi di dire o verba dicendi e consideriamo questa scena tratta dal video il discorso di critognato aliqui ex vobis audiuntur è la principale traducendo alla lettera avremo alcuni di voi sono sentiti dire dalla principale dipende l'infinito futuro accepturi s notiamo che il participio futuro nell'infinito concorda con il soggetto accepturi è riferito ad aliqui la traduzione letterale che ci serve soltanto per capire la costruzione del nominativo e dell'infinito è la seguente alcuni di voi sono sentiti dire aliqui ex vobis audiuntur stare per accettare la resa dedizionem accepturi esse qual è la resa corretta in italiano e come ci arriviamo partiamo dal verbo della reggente audiuntur terza persona plurale passiva del presente indicativo di audio traduciamo in italiano nella forma impersonale dunque si sente dire che a questo punto prendiamo il soggetto della reggente aliqui ex vobis e lo trasformiamo nel soggetto della subordinata introdotta dal che in italiano dunque si sente dire che alcuni di voi infine occupiamoci dell'infinito accepturi esse che indica un'azione posteriore che si svolgerà nel futuro poiché dipende da un presente indicativo audiuntur che è un tempo principale tradurremo accepturi esse con un indicativo futuro in italiano dunque che accetteranno la resa la traduzione corretta sarà dunque la seguente si sente dire audiuntur aliqui ex vobis che alcuni di voi dedizionem accepturi esse accetteranno la resa